Il traffico si sta intensificando in A11 in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'allacciamento Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Stessa cosa sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra La Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori sono possibili disagi tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina in via Morosi a Firenze per un allaccio alla rete idrica fino al 30 aprile circolazione interrotta tra via Baracchini e via Baracca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!